Allora, questo brano che faremo ora si intitola Mare Nostrum ed è dedicato a tutti i popoli che si affacciano nel Mediterraneo diciamo come speranza di pace, come augurio di pace. È il primo pezzo che abbiamo fatto da quando abbiamo in mano, e sono più di vent'anni, questo strumento che a seconda della cultura di riferimento si chiama Sublu o Tibia o Aulos. Mare Nostrum quindi. Allora 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 Allora